No, ti vuol dire, caso dopo questa live che comunque abbiamo fatto insieme, visto che sai magari un po' come funzionano le dinamiche di Twitch, del web, insomma, magari tra la mia community, non so se sia così, potrebbe, immaginati nascere la ship gringiada. Ok, che è quasi molto simile a gringiata, magari anche per un motivo, ma potrebbe uscire la ship gringiada, quale sarebbe la tua reazione? Dito meteo? Quella faccia, quella faccia, scioccata, non saprei che dire, gringiata, una ship sbagliata. Mi dispiace, però è così. Cavallaud? Cavallaud? Perché aud di cosa? Greenbaud? Greenbaud. Cavallaud direi, sembra una brutta ship, però comunque il nome c'è. Cavallaud. No, scusa, perché dovrebbe essere una brutta ship? Perché non penso potrebbe essere una ship, ma come? Cioè, ship è tipo, che li vedrai bene insieme, eh? Sì. Non lo so, io non mi ci vedrei bene insieme con te. Ci sta. Ma mai? Non sembra. Te l'ho detto, cioè, non sembra di pesisticamente e come modo di fare, non ne vuoi tu, sembra una persona proprio simpatica, sì, dai, più o meno. Però non capisco neanche troppo il tuo senso dell'umorismo, quindi non sembra di pesisticamente. Senso dell'umorismo, faccio la dire capirlo, quindi, sì, potremmo essere ottimi amici, però non di più, capito? Cioè, non ci sarebbe tanta affinità, ecco. Certo. Baccon.